Tappa numero 11, 12 gennaio 2024, dove cavol ci siamo ormai, diciamo, aggregati, seduti e condivisi con Nicola Dutto. E qua il nostro Nicola Dutto, con la sua moto, la sua sorellina, Nicola Guarda, e tutte le mattine lo saluta, e il suo staff di moto dietro, che li crea sicuramente assistenza, capacità, modernità, spirito di intraprendenza e determinazione, perché personaggi così determinati, sarebbe veramente l'augurio di tutti e tutti noi avere questa capacità di essere così aggregati e sicuramente anche, oltre che determinati, vincenti in questo lato. Nicola, vi rivia da poche settimane dalla Baia di California, dove ha partecipato, ha finito la sua baia laggiù, della penisola messicana della California, e sei arrivato a Ensenada, è vero. Raccontami prima questa tua esperienza americana, quei sensazioni ti ha dato, e diciamo quali risultati hai portato. Beh, per me... beh, ciao a tutti innanzitutto. Per me la Baia California ce l'ho nel cuore. È una terra magica, è la stessa gara, è magia. Avevo in testa di correre la Baia 1000 point to point, che è quella originale, quella che è nata più di 50 anni fa, già dal... ancora quando camminavo, nel 2007. Mi stavo preparando per correre quella gara nel 2010, poi ho avuto l'incidente, e per vari motivi non sono mai riuscito a correre con questa formula. L'anno scorso, il 2023, era l'anno X, l'anno giusto, e quindi siamo volati giù e abbiamo vissuto un'esperienza fantastica. Ti ripeto, è difficile spiegare com'è la Baia California se non l'hai mai vissuta, perché è un mix di sensazioni... mi viene sempre solo la parola magiche. Respiri libertà, respiri amicizia e fratellanza. Poi tu lo sai, perché per anni hai seguito Johnny Campbell, che lì è un dio. Ecco, allora, lui va in California, fa la sua gara, termina con un risultatone, perché la termina, questo gli dà, oltre che gioia e soddisfazione, ripeto, quanti saranno i piloti italiani che hanno avuto l'usso, l'opportunità di fare la Baia 1000 in California? Penso solo io. Perciò sei un privilegiato, lasciamelo dire, cavolo. Hai un privilegio che siete veramente in pochissimi per aver fatto questa esperienza. Adesso atterriamo qua, nella nostra Mauritania, qui dietro c'è il deserto che arriva lassù fino al Mali, diventa ancora più lontano, davanti a noi c'è l'oceano, circa 300 chilometri. Cosa rappresenta per te questa esperienza qua giù? Beh, questa è assolutamente un'altra dimensione. Se la Baia è magia, l'Africa e Corese è passione, perché per venire giù e correre qui con, come dire, con pochi comfort, raggiungi proprio quello che secondo me era lo spirito delle prime Parigi Dacara, lo puoi fare solo se hai passione. È la seconda volta che corro qua in Africa, all'Africa e Corese. Quest'anno va bene, sono contento. Ci stiamo divertendo, è quello che conta. Io, è chiaro, ho un gruppo di amici, di fratelli che mi segue dai meccanici, da mia moglie. Poi, è chiaro, saltano di più all'occhio i due Ghost Rider, Ruben e Ulian. Noi siamo riusciti, secondo me, a fare una cosa eccezionale, che è trasformare uno sport che è prettamente per il singolo in uno sport di gruppo. Noi siamo come i tre moschettieri, uno per tutti, tutti per uno. O arriviamo tutti o non arriva nessuno. Ci diamo una mano in tutto quello che possiamo, quello che posso dare io alla squadra lo do e i ragazzi fanno lo stesso per me. Ecco, sappiamo che oggi è venerdì, domani è sabato, e per Nicola un giorno, non dico speciale, ma semplicemente da riconoscere come una grande opportunità, domani è il suo compleanno, fa 22 anni, esattamente. 22 sì, qualcuno di più, ne facciamo qualcuno di più, 54 domani. 54 anni con questa sua determinazione, voglia, capacità, obiettivi, e Dio ci mandi tutti questi messaggi in maniera positiva, perché ragazzi così ne abbiamo veramente bisogno tutti. Grazie Nicola, ci vediamo dove? A Lago Rosa. A Lago Rosa a festeggiare, assolutamente. A Lago Rosa a festeggiare, che è l'obiettivo e il sogno di tutti noi. Ciao, ciao. Questo pilota si chiama Eri e Dio, in questo giorno, è arrivata al penultimo, terzo ultima tappa. Là c'è il Senegal, là c'è l'Oceano Trattito, è qui. Quindi, dove sei arrivato, esattamente, dove sei arrivato? Mi sono arrivato? Sì. Sono da Giappone, io vivo in Tokyo. Io vivo in Tokyo, una città di 20 milioni di persone vivono in Tokyo. E' molto lato. E perché ti porti la decisione per arrivare all'Africa? Ma perché ho fatto un po' il suo sogno è stato un po' il mio sogno è stato un po' il mio sogno. E' un po' il mio sogno. E' un po' il mio sogno è un po' il mio sogno. E' un po' il mio sogno è che ho lasciato le persone che conoscono il mondo. Sì. Per quanto tempo hai portato il chisho? Quanti anni fa, quando hai lavorato in Chisholini, o per i due ultimi anni? Sì. Quando hai portato il chisholini, in Takaare? Quanti anni fa? Ho deciso. Ho lavorato in Chisholini, ho deciso di fare un change in Israele. Doi in cui hai lavorato in città? In questa ricetta? Io ho solo un Sì, è stato il primo periodo del deserto, ma io ero in Egipto, per la scrivere. Questa è la seconda volta che hai visto il Dune? Sì, ma è molto diverso da me. E qual'è la vostra suggestione? In caso di altri japonais che vogliono venire in questo affricano, qual'è la vostra suggestione? 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 O magari qualcosa che ti esqueci, questa è l'opportunità di fare più in questo passo. Tutto è perfetto o qualcosa che ti piace cambiare? A grave como'Italia realtà. Spero che lo Theetah è perfetto. Il protezione del contatto è perfetto, il food è perfetto. Insieme? Il protezione è perfetto. La città. La città è buona? Sì. Le dormire è buona. Buona cosa. In generale siamo in giù dei paesi qui vediamo la cooperazione. È molto usato, è difficile. Molto persone dormono in queste stalle. È usato, wei tutti. C'è una cosa, diciamo la malmottò, malmottò vuol dire che lei arriva a una moto, quella casa di dietro che è meno di un metro cubo dove ha dentro tutte le sue cose, il signor, possiamo vederla? Sì, non ci sono mai problemi, non! Non, no v'è nessuno? Mi farò un aspetto a tutti i nostri, dobbiamo fare l'investigazione? Gli documenti del mio. Ci sono? Queste il mio, la cosa? L'argete il mio. Sì, l'argete il nostro bello i mondi. E questo è il mio? L'argete è il mio, ah! Qui si è venuto a lei qui stanno solo qui? Perché? Sì, perché nessuno mi viene con me. Sì, ma hai 20 milioni di persone in vostra regione? Sì, ma nessuno mi viene con me. Perché? Non so, non so. Hai sponso, support o cosa? O hai sponso? Non ho un grande sponso. Ma molti miei amici mi hanno supportato. Quindi, io potrei essere qui. Sì, molto apprecia. Hai molti persone che seguono i vostri sponso in Italia. Quanti giorni vogliono sapere qual è la posizione di cui stai ancora in la rase. Due giorni più, tu arrivi in Dakar. Sì. Qual è la prossima step? La step? Sì, dopo la rase. Una rase. Non ho deciso. Ma mi piace molto questa rase. Voglio provare. Ok. E devi dire che è felicissima. È veramente, diciamo, più che soddisfatta, è felice, è gioia. E vuole ritornare perché l'Africa ti prende in questo. Ok. Noi nel motocyclic. Non lavoro nel mondo della moto. Non lavoro nel mondo degli affari. E perciò sembra una bambina, una ragazzina che pesa forza neanche 50 kg. Ma volontà, determination. Il gol l'ha portato quasi a finire dalla nostra Africa e Coretta. Grazie. 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 Oggi 13 gennaio, praticamente undicesima tappa. Cosa succede? Cosa succede che il nostro Paolo con la sua teneree fa prima? Arriva prima anche oggi. Cosa è successo oggi per essere sempre così valuta? Quarta tappa che vince qui a questa Africa Race. Partivo sei minuti dietro. Questo vuol dire dieci. E ho arrivato due minuti davanti da loro. Quello vuol dire che abbiamo smanitato un po' oggi. Però era l'ultima tappa e a me mi ha fatto imparare che fino alla fine si deve smanitare sempre. Allora non ho lasciato neanche un secondo dietro ma si sa quello che può succedere. E anche una vittoria di tappa è sempre bello. Evidente oggi è penultima tappa. Domani è una tappa molto breve. Adesso arriva al Lago Rosa e c'è ancora una possibilità domani di fare una tua performance. Eh sì, la gara è già finita adesso. Abbiamo fatto terzo della generale che per me è bellissimo. E domani ancora si può vincere un'altra etapa. Allora sicuro 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 che io vado a farlo. Ecco, guardiamo un attimo la sua moto. 6.000 km più di speciali di deserto. Sembra in perfette condizioni. Che cosa puoi ringraziare? Quelli di Yamaha hanno fatto un lavoro da Dio perché all'inizio di gara ho caduto due volte. Non molto forte però ho rotto un pochino le moto con i sassi della Morocco. È una moto perfetta tutti i giorni. Allora niente. Secondo me è il miglior team che c'è adesso nel mio parco. Bene. Ok, aspettiamo domani al Lago Rosa per avere l'ultima opportunità per tutti di raggiungere non solo la fine ma anche la soddisfazione di aver finito come sempre un Africanese che arriva a Dakar. Qual è il tuo sogno di domani? Fare il show come sempre. Io fare il show. Fino a domani non lascio smanitare. Ok, qui a pochi chilometri c'è il confine con Senegal. Quante volte sei arrivato tu in Dakar? La mia prima volta che ho fatto l'Africa Correggio è stata l'anno scorso. Questa è la mia seconda volta. Ecco, per ricordarvi l'anno scorso che risultato hai avuto? L'anno scorso ho fatto quinto della generale, primo di categoria. era la prima bicilindrica per arrivare al Traguardia. Benissimo. Allora con la speranza di sempre più progredire nei prossimi futuri ci vediamo domani direttamente alla Lago Rosa. A domani. Saluto i tuoi figli italiani. Voglio salutare tutti i miei fan d'Italia e ringraziare perché so che sempre sono lì a mandarmi messaggi sui social media. Allora veramente grazie mille. Ok, grazie ancora. A domani. Saluto i tuoi figli italiani. Grazie a tutti.